Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, De Bello Afgano, che vuol dire discorso sulla guerra in Afghanistan, sulla falsariga delle due celebre opere di Caio Giulio Cesare, De Bello Gallico e De Bello Civili. Però io non lo so se esisterà qualcuno che potrà scrivere un libricino intitolato De Bello Afgano, perché sembra che l'Afghanistan non possa essere conquistato come fu conquistata la Gallia da Caio Giulio Cesare. La Francia è piena di pianure, l'Afghanistan è pieno di montagne, montagne altissime, molto più alte delle nostre Alpi. Pensate che non ci sono riusciti i russi, i russi, la grande potenza russa dell'URSS non riuscì a piegare l'Afghanistan. Sì è vero che c'erano gli aiuti degli Stati Uniti, però come gli Stati Uniti non sono riusciti a piegare il Vietnam tra l'altro, perché il Vietnam pure è pieno di foreste, ci buttavano in Napalma, però anche lì ci sono dovuti ritirare gli americani, i russi si sono dovuti ritirare, e il presidente Barack Obama sta preparando una exit strategy, una strategia di uscita, perché lì hanno paura di impantanarsi, perché nell'Iran ci sono tante pianure, nell'Iraq ci sono tante pianure nell'Iraq, l'Iraq, l'Iraq, no? Mesopotamia, tra i due fiumi pieno di pianure, l'Iraq, ma l'Afghanistan non è pieno di pianure, ci sono di quelle montagne altissime che le Alpi se le sognano quelle montagne lì, e non ci sono riusciti, neanche Alessandro Magno si è avvicinato all'Afghanistan, gli islamici l'hanno islamizzato, l'Afghanistan, ma dolcemente, perché sotto ci sono rimasti i costumi tribali, i costumi tribali perché, come si chiama lì, il Burka, non hanno mica inventato gli islamici, c'era già, e c'è rimasto, c'è, e quindi fa bene, fa bene Barack Obama a ipotizzare una exit strategy, ma non è facile, non è facile, se Raffino Massoni ce l'avrebbe una sua exit strategy dall'Afghanistan, ce l'avrebbe, io provo qua a dire qualcosa, e poi fate quello che volete, se io fossi in Barack Obama e anche nei suoi allegati, tirerei via tutti i soldati, tutti i soldati, i carri armati, gli aerei, i droni, tutto, 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 tutto via, e sapete che farei? Manderei in Afghanistan un'armada di quattro, cinquecentomila belle ragazzi della California, della California o anche della Moldavia, dell'Ucraina o Ucraina, della Bielorussia, che adesso Putin si allea con Obama ed è naturale che sia così, una bella armata di quattro, cinquecento belle figliole, tutte di bianco vestite, vesti trasparenti e leggiadre, con delle ghirlande, con delle ghirlande in mano, con dei fiori, tutti cantanti, usannanti, che penetri questa armata di quattro, cinquecentomila belle ragazze nelle vallate dell'Afghanistan. E vedrete, vedrete che i signori della guerra e tutti lì i cosi, gli insorti talebani che vedrete che buttano per terra i loro Kalashkinov, scendono giù dalle montagne e sarà una grande festa. Questa è la exit strategy che io ho in mente, non so se Barack Obama ne terrà conto, però io agirei in questo mondo, in questo modo, quattro, cinquecentomila belle figliole, belle bionde, perché là ci vanno matto, matti ci vanno, ci vanno matti belle bionde. E a lei, tutte nelle vallate dell'Afghanistan. E vedrete che la guerra finisce subito e che il terrorismo sparisce. Va bene cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.